E tutto è fatto, hai capito? Tu vedessi come siamo ammirate quando passiamo in mezzo al pubblico come delle regine. Tu passi, non guardi nessuno, ma senti di essere il centro dell'ammirazione di tutti. C'è sempre un mormorio che ti segue. Naturalmente c'è chi guarda il vestito e chi guarda te. Tu vedessi che occhi, e soprattutto i vecchietti, e ne vengono sai, anche soli. Chissà cosa vogliono comprare dalla dita. Gloria, vieni anche tu. Ne parlo io al direttore, è un ragazzo serio, mi vuole sposare. Vieni, vieni.